No, noi abbiamo assolutamente le idee chiare, siamo sicuri che si troverà l'equilibrio fra un rispetto dei vincoli di bilancio e il diritto alla crescita, al lavoro, alla salute e alla vita di milioni di italiani. Per quello che ci riguarda quota 100 ci sarà, una riduzione fiscale ci sarà, la chiusura di milioni di cartelli di Equitalia ci sarà e quindi sono assolutamente tranquillo da questo punto di vista. Via può dormire sogni tranquilli? Gli italiani possono dormire sogni tranquilli.